Oggi la settimana parte, non dico col piede giusto, non dico che parte in modo croccante, dico che parte addirittura in modo scrocchiarello. È fantastica. Perché? Ovviamente perché si torna a lavorare, riaprono i mercati, quindi come potrebbe non esserci il sorriso su questa faccia? Ma soprattutto perché per la serie in cui parlo di indicatori, oggi ho deciso di affrontare uno degli indicatori che mi avete chiesto di più in assoluto, il COT, che è un indicatore particolarmente speciale per due motivi. Uno, ci permette di scoprire chi sono le mani forti, cioè chi effettivamente muove i prezzi e i mercati, e due, perché è un indicatore che ci permette di creare robe del genere, con quanti? Due, tre click, senza alcun problema, e con guadagni stratosferici. Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video, io sono Francesco Buzzi, insegno come guadagnare sui mercati senza diventarne schiavo. Io direi di non perdere altro tempo, tuffiamoci subito in questo video, subito dopo la sigla. Come ogni video del lunedì, è un video molto operativo, è un video molto spippolatorio, quindi ho preparato già un workspace su 3Station, andremo a fare delle ottimizzazioni, e ci sarà da divertirci, assolutamente, ci sarà anche del codice croccante. Ma, uno, per ottenere il codice dovete rimanere per forza fino alla fine, perché vi dirò esattamente come ottenere il codice, due, bisogna capire di cosa stiamo parlando quando parliamo di COT. Tante persone non ce l'hanno in mente, non hanno capito che cos'è. E allora serve un pochettino di teoria. Ecco qua, queste sono le slide ufficiali del mio corso Scrocchierello. Il COT è un indicatore che sta per Commitment of Trader, non è un indicatore di per sé, il fatto indicatore è un report settimanale che esce il venerdì, prendendo dati dal martedì sera, e quindi è un po' in ritardo, e traccia i trader, ok? Traccia i trader sul mercato dei future. Per tracciare chi sono gli operatori del mercato usiamo il COT, che è uno strumento ufficiale proprio della Commodity Future Trading Commission, ok? È un report settimanale ufficiale che traccia gli open interest dei diversi operatori suddivisi in commodities e finanziari. Perché questa cosa? Perché i future finanziari e i future sulle commodity sono completamente diversi, ok? Noi abbiamo otto categorie di future, indici, obbligazioni, valute, e cinque sulle commodity energetici, metalli, granaglie, carni e soft. Un future sul crudoi ha un movimento completamente diverso, ha degli operatori completamente diversi da il future sull'SP500, quindi sono classificati in modo un pochettino diverso. Per le commodities gli operatori vengono denominati commercials, non commercials e other reportables, e per i finanziari abbiamo i dealer, abbiamo gli asset manager, abbiamo gli average funds, e abbiamo gli other reportables. Però io direi di non complicarci troppo la vita, pensiamola così, commercials, non commercials e other reportables. Chi sono i commercials? Sui feature finanziari sono i dealer intermedi, ovvero quello che viene chiamato sell side, ne fanno parte i grandi banche, i rivenditori, bla bla bla. I non commercial, nel my side, nel nostro non commercial, invece, ci sono gli institutional e le average fund, funds. In questa categoria ci sono i fondi pensione, i fondi comuni di investimento, compagni assicurativi, istituzionali in genere, hedge funds, CTA, cioè commodity trading advisor, CTO e CFTC. E gli other reportables ci sono gli altri. Allora, differenza molto importante, sulle materie prime, concludo e poi parliamo anche degli other reportables, i commercial sono chi ha a che fare con la materia prima, cioè io che semino la soia, io che raccolgo la soia, io che trasporto la soia, io che estraggo il crude oil, io che trasporto il crude oil, io che stocco il crude oil, eccetera, eccetera. Nel non commercial, ci sono tutti gli altri, tutti i fondi, tutti gli istituzionali, il CTA, il CTO, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? I grandi fondi, in generale, che non hanno le mani in pasta sulla materia prima, ok? Però trattano la materia prima. Gli other reportables, di qua e di là, sono una categoria che comprende gli altri. Negli other reportables ci siamo io e te. Ok? Perché? Perché il cot indicatore traccia i trader che tradano oltre una certa soglia, ok? Di contratti di future. Ad esempio, se hai più di mille contratti di SP500, sei classificato. O tra i commercials, dal lato finanziario non è esattamente così, non è corretto, però usiamolo perché è più facile. O tra i non commercials, ok? Sei sotto i mille contratti di SP500 e sei tra gli other reportables. Gli other reportables sono i pesci piccoli. Siamo io e te. Però pesce piccolo... Si può definire pesce piccolo una persona che trada meno di 999 SP500? Infatti, nelle other reportables ci sono anche aziende, governi, cose di questo genere. Ci sono banche minori, cedenti ipotecari, credito di sindacati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo, ricapitolando, nel code report abbiamo le mani forti, chi muove tantissimi contratti, che può essere suddiviso in commercials e non commercials, banalmente. E chi non muove tantissimi contratti, che è quella plebaglia, quella marea infinita, dove ci siamo io, te, il tuo cugino, il tuo amico, il tuo fratello, e vengono messi in un secchio, in un sotto insieme misto, che viene definito other reportables. Tecnicamente l'indicatore lo si trova direttamente, cioè i dati li si trovano direttamente nel sito della CFTC. Questa è l'home page, andiamo su Market Data, Commitment of Traders, e spiega il discorso dei vari tipi di report. Fatto sta che sotto abbiamo, che ne so, petrolio, short format. Ecco qua, abbiamo fuel, fuel oil, il Brent, Golfo, ok, questo è il, boh, etanolo, tutti, crude oil, crude oil life suite. Eh, questo è il future che noi tradiamo, ok? E vengono, appunto, differenziati per tipologia di trader e contratti e posizioni, ok? Ma un modo, un ciccinino più semplice per vederlo è su 3Station. Guarda qua. Ti faccio vedere. Ok. Questo è il code report netto, ok, le posizioni nette tra commercial, non commercial e other reportables. E qua sotto c'è il code report che evidenzia la percentuale di contratti occupati rispetto al totale tra i commercial, non commercial e i other reportables. In particolar modo, in blu, che occupa il 70% totale del mercato del future del crude oil, 70%, il future del crude oil è il futures flow commodity più scambiato, eh. Sono, se non vado errato, 700.000 contratti al giorno, 800.000 contratti al giorno, qualcosa del genere. Ah, beh, la media, recentemente, si è un pochettino abbassata. Oh, si muove, no? Però ha picchi da 800.000 contratti al giorno, eh. Ok? Tanto per dire. Ok? È un contratto, sono, un punto è mille, mille dollari. Quindi è una materia prima, mica, mica male, mica da ridere. E il 70% del crude oil è mosso da commercial, da chi estrae il petrolio, da chi trasporta il petrolio, da chi stocca il petrolio, eccetera, eccetera. Il 70%, tradotto, chi muove il pezzo del petrolio sono i commercial, sono le mani forti che hanno le mani in pasta. Ok? Poi abbiamo i non commercial e poi abbiamo gli adere portable, che siamo io e te. È un numerino piccolo, 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 è 6.1. 6.1% del mercato del future sul crude oil lo muovono io e te, piccoli aziende, piccoli governi, piccoli enti, piccoli fondi. Quindi 6%. Questa è la manoforte. E parlando di SP500, ad esempio, chi sono le mani forti sull'SP500? Commercials. È una definizione particolarmente errata per i fici finanziari, però, ripeto, è inutile fare i cavillosi. Le mani forti, punto. Le mani forti controllano il 73,9% di media, del 70, 71, 72, 75% dell'intero mercato del future dell'SP500, che scambia più di un milione di contratti al giorno. Ok? Gli adere portable sono l'11,3. Quindi, a domanda risponde, chi muove il prezzo dei future? Il COT ci può rispondere le mani forti. Ok? Quindi non io, non te, un insieme di fondi grandi, piccoli, ognuno con scopi differenti, che lavora con strategie differenti, che ha orizzonti temporali differenti, che non sono tutta una marea unica. È un branco che fa tutte le cose a caso, per conto loro, e muovono il prezzo. Sono loro. Quindi noi possiamo usare il COT report per vedere se... salire sul caro dei vincenti, per vedere se conviene tradare contro il caro dei vincenti, eccetera, eccetera, eccetera. Giusto per curiosità, chi muove il prezzo dell'oro, ovviamente sono sempre i commercial, poi non commercial sono al 41%, e le adere portable, io e te e gli altri pesci piccoli, 7,2%. Oh, oh. Cosa ho combinato qua? Ecco qua. Per la soia, che è la maggiore granaglia, 67% commercial, 10,2% in gli adere portable. Quindi, io, te e le centinaia di persone che fanno trading come noi, non conta un fico secco. Non conta un fico secco. Punto. Cioè, siamo veramente una dose omeopatica per il mercato, cioè che non esiste. Ok? È molto importante da capire. Noi possiamo usare queste indicazioni per il nostro trading. Ad esempio, possiamo ottimizzare un trading system che ha un take profit di volatilità, uno stop di volatilità, una opzione che dice segui commercial, segui non commercial o segui gli adere portables. Ok? E magari che entra a una rottura di un donkian. Questo l'ho messo io. Ok? Lo facciamo andare e vediamo il risultato. Ovviamente il quarter report ha delle controindicazioni. Intanto è molto in ritardo. Quindi è quello che si viene a generare un trading system molto lento, molto lasco, molto ritardato. Ok? Se lo usiamo come trigger principale. La cosa positiva, adesso in attesa dell'ottimizzazione, è che il quarter report lo possiamo utilizzare come motore, lo possiamo utilizzare come filtro. Quindi possiamo fare tantissimi sistemi sul quarter report. E sono particolarmente resistenti. Aspetto questa ottimizzazione e ti faccio vedere alcuni sistemi che ho. Zucchero, succo d'arancia, riso, cotone, cacao. Sono alcuni sistemi che ho fatto 3-4 anni fa e che funzionano ancora molto bene. E sono però... Li ho creati utilizzando il quarter report come motore. Quindi sono veramente grezzi. Quindi il risultato dell'uso del quarter report su soia, ad esempio, produce questo risultato qua. che in vent'anni ha anni positivi, ha anni negativi, è particolarmente grezzo. Ok? Ha 200 di average trade, ha 4 giorni a mercato, eccetera, eccetera, eccetera. È sicuramente utile. Ci sono delle configurazioni che... Ma no, non ne prendiamo adesso, ne prendiamo dopo. Ti faccio vedere alcuni sistemi che ho fatto mille anni fa. Tutti i miei sistemi sul cot si chiamano francot. Perché io sono un tipo creativo? Li ho messi su... Li ho fatti su commodity un po' ardue da tradare, da approcciare con trading system normali. E invece il cot funziona molto bene. Questo è il succo d'arancia, che è fantastico come future, abbastanza intradabile. Però questo è il riso, un altro abbastanza intradabile. Io ho provato a tradare il riso, è veramente da incubo. Questo è il cotone, su cui funziona veramente poco. Il cotone è veramente un future complesso. Veramente. Eppure funziona il cotereport. Questo è il cacao. Un altro abbastanza complicatino, non è impossibile, ma il cotereport continua a funzionare, funzionare molto bene. E questa in particolare è una strategia che lavora su data 1 e usa il cotereport su data 2, ovviamente. Perché è sempre settimanale il time frame del cotereport. Quindi, è particolarmente intrigante, perché ci permette di capire se lavorare a favore delle mani forti, cioè seguendo, sulle spalle dei giganti, come si dice, o contro. L'importante è vedere chi muove il prezzo, come lo muove, quanto lo muove e chi seguire. Questa è la cosa principale. Se non vado errato, l'ho messo, l'ho fatto già andare su crude oil. Adesso vediamo il risultato, se no lo faccio ripartire. Eccolo. Mica male come risultato. No, era su oro, scusami. Questo è su crude oil. Mica male il risultato. E questo è su SP500. Mica male come risultato. Torno a dire che su future finanziario il cotereport, secondo me, perde un po' di valore. Cioè, si possono fare, per carità, ma il meglio il cotereport lo dà sulle commodity. Perché lì effettivamente abbiamo delle distinzioni molto forti. Cioè, letteralmente noi possiamo capire chi è che sta piantando la soia e chi sta facendo trading su soia perché è in un fondo. Sono due cose diverse, hanno obiettivi diversi, fanno cose diverse. Anche dentro le categorie ci sono persone che fanno così diverse perché magari uno sta piantando la soia e l'altro la vuole trasportare, per carità. Però la distinzione è molto netta, è molto facile da fare. E questo è il cotereport. Ma Francesco, ma quindi che codice utilizzi? Il codice lo do esclusivamente a chi si iscrive alla Buzzletter. Link in descrizione. È gratis. Lascia i tuoi dati. Ricevi una mail e sei a posto e giro il codice. Ma sarà un codice ovviamente base. Non è un trading system fatte finito. Non ve lo aspettate. È un codice per usare il cot come motore. Ma si può usare come motore, come filtro, come uscita, come correlazione tra più sottostanti. Veramente c'è il mondo che si può fare. È uno dei miei indicatori preferiti anche perché dà il senso di come funzionano i mercati. Non esiste la mano forte che viene a prenderti di questo stop. Non esiste la mano forte che vuole farti lo sgambetto. Non esiste un insieme di mani forti. Cioè non è un unico sottinsieme. È un misto di persone con tanti soldi, con ognuno, propri obiettivi, propri incentivi, proprio metodo di guardare il mondo, propria visione, propria strategia. Ok? Semplicemente sono accomunati dal fatto che muovono tanti soldi. Ok? Io penso di aver detto tutto. È uno dei video che in assoluto non vedevo l'ora di fare. Sono andato molto di fretta. Ma secondo me, se avete ancora qualche richiesta, possiamo approfondire magari l'uso del cot come filtro e non come motore. Possiamo fare un po' di cose interessanti. Però sta a voi. Lasciate un commento. Vediamo. Io seguo le mani forti che siete voi. No? Con questo è detto tutto. Iscrivetevi alla Buzzletter per il codice e per ricevere un sacco di contenuti educativi, di informazioni, di cose meravigliose. E noi ci vediamo con un altro video che non so se esce domani o mercoledì. Quindi cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita. E vi auguro una splendida, meravigliosa settimana di mercati. Come potrebbe essere altrimenti? Ciao, buon trading!